C'è la solita santificazione di Giorgio Meloni, poi c'è lei che si complimenta, giuro, con Al-Sisi, il presidente dell'Egitto, per i diritti umani, ha detto proprio così, e c'è la Lega che si è inventata, indovina un po', la secessione. Eccoci al nostro bestiario di governo. Iniziamo. Primo, sempre a proposito di Meloni Santa, Corriere della Sera, sentite qui, la visione di Giorgia, la vincitrice delle elezioni viene accolta come una regina da col diretti e, va detto, lei non sbaglia un colpo. I contenuti sono giusti, il tono pure, e così alla sua prima uscita dopo il voto che l'ha proiettata verso Palazzo Chigi è apoteosi, al punto che spesso è difficile capire cosa dica a causa dei Giorgia, Giorgia. E poi, scrive il Corriere, in ogni caso Meloni non promette quello che non intende mantenere. Viene in mente un celebre giornalista negli anni 30, sempre sarà un caso del Corriere della Sera, che scriveva Sorge il sole, canta il gallo, Mussolini monta cavallo. Certa stampa non riesce proprio a non trasformare in divinità il leader di turno. Poi, promesse elettorali. Secondo alcune fonti, dal centrodestra, sarebbero stati Salvini e Berlusconi a promettere a Letizia Moratti che sarebbe stata candidata a Presidente di Regione Lombardia. Non male come scelta quella della Moratti. Ne ha presi due su tre della destra e ha mancato l'unica che ora decide davvero. Poi, secessione, nota della Lega. Dopo 30 anni di battaglia e questa sarà la legislatura che finalmente attuerà quell'autonomia delle Regioni che la Costituzione prevede. Umberto Bossi ci ha creduto così tanto che ha fondato intanto il Comitato Nord, spiega Bossi, con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984. Tradotto. Sono 38 anni che mi prendono per il culo. Fenomenale poi il leghista Marco Reguzzoni che ha detto Ho visto Bossi di nuovo con gli occhi di tigre. Quando si dice il tempismo delle metafore. Poi, questione di palato. Tajani dice, per forza Italia, Salvini può fare il ministro di qualsiasi di Castero. E' comprensibile, del resto dalle loro parti hanno stomaci forti, sono pronti a ingoiare di tutto. Poi, il cretinismo Corsaro. Riecco Massimo Corsaro, soprattutto il suo uso, diciamo, disinvolto dai social network. L'ultimo tweet dell'ex parlamentare di destra, finito sotto accusa, recita così Non so cosa facesse il padre di Miloni quando lei era bambina e lui aveva lasciato casa. So per certo che la sinistra ha portato in Parlamento una persona perché suo fratello spacciava. Ora, da una parte si sta riferendo alle polemiche di stampa spagnola, internazionale, anche inglese, oltre che quella italiana, che racconta del padre di Giorgio Miloni che ha subito una condanna per un affare di droga. Ma Giorgio Miloni con il padre non ha mai avuto rapporti, fin da bambina. Dall'altra, però, tanto per farsi riconoscere, si riferisce alle elezioni nella coalizione di sinistra italiana e verdi di Ilaria Cucchi. Solo che Corsaro dimentica che i processi, la verità ricostruita da diversi processi nonostante i depistaggi, è molto diversa da quello che dice lui. E infine, Miloni manda una carezza ad Al-Sisi. Miloni, in risposta ai complimenti per la vittoria del presidente egiziano Al-Sisi, scrive L'Italia è pronta a rafforzare la nostra cooperazione bilaterale su molti campi, sicurezza energetica, stabilità nel Mediterraneo e Medioriente, diritti umani. Grazie al presidente Al-Sisi, Giulio Regini e Patrizzati. Ringraziano. Una roba da brividare.